buongiorno a tutti quando più di 50 anni fa nacque l'Università Yulm essa si sviluppò soprattutto per rispondere a due vuoti formativi che si erano verificati nella nostra città che si erano manifestati quello nel campo della lingua della traduzione quello nel campo nascente all'ora della comunicazione su queste due aree si è sviluppato l'Università che in questi ultimi anni ha confermato, ripetito, rafforzato il proprio ruolo e ha dato vita anche alla Yul Communication School che è la struttura che io dirigo dell'Università che segue l'attività dei Master quindi ricordavo questo dato storico per sottolineare come c'è nella vocazione, nel DNA di questa Università il rapporto con le imprese allora si nacque per rispondere a delle esigenze formative ma anche esigenze che corrispondevano alle domande delle imprese oggi si fa di tutto perché questo rapporto tra l'Università e il mondo delle imprese diventi sempre più forte come lo facciamo attraverso i Master? attraverso una offerta molto ampia che va dai più di 30 Master Universitari ed Executive che sviluppiamo nelle nostre sedi di Milano e di Roma a tantissimi corsi che invece sono rivolti esclusivamente o quasi alle imprese per rispondere esattamente a quelle che sono le loro esigenze esigenze e in quali aree? le nostre aree di riferimento sono soprattutto quattro la prima è quella naturalmente dei media, della comunicazione, delle lingue la seconda area è quella dell'arte, del design, del food la terza area è quella dei social media e della digital transformation e la quarta area è quella della brand communication e del sales management in queste quattro aree ripeto noi organizziamo tantissimi corsi per i quali il rapporto, la partnership con le imprese è assolutamente fondamentale in che senso? nel senso primo di offrire alle aziende la possibilità di formare con dei prodotti ad hoc i propri funzionari, i propri dirigenti, i propri lavoratori e la seconda area di sviluppo è quella di consentire a loro di portare nel mondo accademico l'esperienza delle aziende questo è un legame fondamentale che si crea con gli studenti per cui aziende e università collaborano nel dare la possibilità a tanti nuovi studenti non soltanto di formarsi ma di conoscere e di entrare subito nel mercato del lavoro con un profilo già sostanzialmente molto ben formato quindi un'area di sviluppo per quanto riguarda i giovani, gli studenti, i partecipanti ai nostri master e un'area di sviluppo per le aziende altrettanto importante che quella che riguarda chi già lavora in quelle aziende per perfezionare e migliorare sempre le competenze dei propri attenti queste sono le due aree sulle quali si sta sviluppando questa collaborazione tra l'impresa e l'università e naturalmente il mondo di mondo Yulm è un mondo per noi fondamentale, importante è un mondo che ha già riconosciuto la validità, l'eccellenza dell'università Yulm che partecipa con entusiasmo allo sviluppo della nostra università a questo mondo in particolare ci rivolgiamo proprio perché è un mondo che già conosce tutte le potenzialità e la realtà dell'università Yulm e quindi sa che può investire in quest'area, nell'area della formazione post universitaria e dei master in un dialogo veramente fruttuoso tra mondo dell'università e mondo dell'azienda Grazie 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 Grazie